Grazie Presidente, io in realtà sarò una voce un po' fuori dal coro, nel senso che noi come gruppo consigliare condividiamo molte delle linee espresse all'interno di questa PDA, non ultima per esempio l'attenzione all'eliminazione dell'amianto dagli edifici scolastici, condividiamo il fatto che non l'auspicio espresso dagli altri colleghi che non rimanga solo un atto formale, ma che poi in sede di previsione di bilancio si stanzino effettivamente dei fondi adeguati e quindi noi verificheremo il nostro impegno, ci sarà per verificare quanti fondi verranno effettivamente stanziati su queste linee guida. Ci sono però dei punti che non condividiamo e che ci spingono a non approvare in generale questa PDA e quindi a votare contro. Questi punti sono sostanzialmente punti che riguardano un eccessivo secondo noi coinvolgimento dei soggetti privati con sistemi finanziari come il project finance e bisognerebbe capire quali vantaggi per il privato scatturiscono dalla costruzione di un edificio scolastico in questo modo, l'addizionalità tra le risorse pubbliche e tra questa e quella privata, l'alienazione degli edifici pubblici verso fondi immobiliari privati e poi un altro punto su cui esprimiamo forti perplessità sono i cosiddetti ampliamenti legati ad incrementi del numero di allievi e qui abbiamo avuto un'audizione nell'ultima commissione della settimana scorsa in cui è stato evidenziato come questi ampliamenti che portano poi ad avere istituti con un elevato numero di allievi siano più dannosi che positivi e portino a varie problematiche di gestione e anche di qualità, diciamo, inficiano la qualità dell'offerta formativa. Quindi per queste ragioni, pur in linea generale condividendo, ripeto, molti dei punti espressi, ma con forti perplessità sui punti che ho invece elencato esprimo il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle alla PDA. Grazie.